Benvenuti qui a Ipachima, il nostro stand. Presentiamo diverse soluzioni per il packaging flessibile e anche rigido. In particolare abbiamo portato una confezionatrice Box Motion che utilizza tecnologia Rockwell Automation con motori servo e controlli di Rockwell. Troviamo in Rockwell un partner raffidabile, sempre all'avanguardia, che ci aiuta a migliorare il contenuto tecnologico dei nostri prodotti. Imanpach dà più di 40 anni di attività nel packaging, ha una notevole esperienza in molti settori, tra i più disparati non solo il food, ma in settori tecnici tra i quali il kit, l'hardware, la plastica, il medicale e il settore anche delle salviettine umidificate. Tra le novità portiamo un nuovo sistema remotato per controllare gli impianti di confezionamento a distanza, anche su piattaforme tipo iPad e ovviamente anche un nuovo software di integrazione con sistemi gestionali dell'azienda, quindi in linea con la filosofia Industri 4.0. Macchine quindi sempre più intelligenti che aiutano sempre di più i nostri utilizzatori, clienti finali, in una progressione tecnologica verso un futuro sempre migliore.